benvenuti su espero channel oggi vediamo uno strumento molto comodo quando abbiamo modelli importati dall'esterno in cui magari non abbiamo tante texture o tutte le texture che servirebbero per ottenere la qualità del rendering effettivo in questo caso noi abbiamo solo una texture un'immagine che quindi possiamo utilizzare per il colore abbiamo una parte fisica del nostro oggetto che è presente come modellazione ma non abbiamo texture ad esempio più dettagliate per costruire una mappa delle normali o comunque elementi che sarebbero comodi per avere una qualità più alta nel rendering all'interno di cinema noi possiamo andare a abilitare il canale delle normali quindi per poter importare un'immagine delle normali ma in questo caso non ce l'abbiamo se abbiamo un'immagine a colori possiamo copiare il canale andare nella normale e incollare lo stesso canale in realtà il risultato è alquanto poco soddisfacente perché non ha assolutamente le informazioni di colore corrette per il nostro oggetto ma non tutti sanno che negli effetti di cinema c'è proprio una funzione automatica che si ci permette di creare un effetto molto più realistico generando in automatico una mappa delle normali da quello che è l'immagine colore dall'rgb originale del nostro oggetto questo significa che combinando una mappa delle normali con una buona forza una mappa del rilievo per cui di nuovo incolliamo lo stesso canale magari applichiamo un livello che ci permette di applicare un effetto che ci tolga la saturazione quindi ci permette di vedere il bianco e nero che noi andremo ad applicare e quindi regolare con un effetto luminosità e contrasto quanta tonalità vogliamo quindi più o meno contrastata l'immagine avremo la possibilità di fare un rendering di qualità più alta con un dettaglio molto più fino quindi vedete qua la rugosità sulla superficie della creatura grazie al fatto che noi abbiamo postuto creare delle immagini dall'originale a colori sia per quanto riguarda il rilievo ma soprattutto con normalizza la creazione di una normale e quindi un dettaglio fine tridimensionale per quanto riguarda il nostro oggetto questo è uno dei mille trucchi che potete imparare durante un corso e spero